buongiorno questo questo è il mio cugino che lui parla con i pesci vieni qua guarda la tonda del mare vieni vieni questa è una cosa storica c'è lui che parla con i pesci eccolo qua mio cugino Pasquale la rotonda del mare numero uno ci vogliono superare ma è il numero uno ci mandano di mestiere ci guarda scusate ma che fai scegli? questa è una sceglia ma è bello? ma sta guardando me perché lo so che sono il cugino io sono il cugino di papà ehi chi c'è? vieni qui è uno spettacolo è uno spettacolo buona domenica saluta dai arrivederci arrivederci saluta è uno spettacolo